6 luglio 2017, è questa la nuova data fissata nell'agenda Cantarelli. Per quel giorno infatti i sindacati sono stati convocati al Ministero dello Sviluppo Economico. C'è ovviamente ancora Massimo Riserbo sul tema dell'incontro, ma potrebbe essere propedeutico alla trattativa con chi andrà ad acquistare l'azienda Tessile Aretina. Ad oggi infatti non c'è stato alcun annuncio ufficiale da parte del commissario straordinario, ma la scorsa settimana Pitti Uomo a Firenze l'Avvocato Romagnoli aveva confermato la presenza di un'offerta, senza indicare un nome, che sarà reso pubblico unicamente nell'ambito di una nuova procedura di evidenza pubblica. Intanto, secondo indiscrezioni, la cordata Pacenti Richmart avrebbe formalizzato la sua offerta per l'acquisto del marchio Aretino, versando una cauzione di 160.000 euro per assicurarsi l'aggiudicazione di Cantarelli. Un'offerta corredata anche da un business plan articolato. Il piano conterrebbe la previsione di un organico di 80-100 dipendenti, numero decisamente ridotto rispetto a quello attuale. Sono infatti 250 le mestranze impiegate al momento di cui circa 100 da tempo in cassa integrazione.